Siamo le suore delle poverelle da un palazzolo ci ha volute qua per dar conforto a chi è sofferente per aiutare chi è in difficoltà. Noi tra i malati dentro gli ospedali diamo speranza a chi non spera più. Noi tra i bambini anime speciali per insegnare piccole virtù. Noi asciughiamo le lacrime a chi una famiglia non ha, non ha, non ha. A quelli che vivono ai margini di questa malata società. Siamo le suore delle poverelle. 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 Nel nostro viaggio Dio ci guiderà. Noi missionarie, donne di fontiera, noi dove regna fame e povertà. noi tra gli anziani e i visabili per regalare allegria, madri e sorelle dei poveri per offrire pane e compagnia. Siamo le suore delle poverelle. Don Palazzone Don Palazzone Della verità 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 Grazie.